Ciao bimbi! Eccoci a questo nuovo appuntamento settimanale. L'altra volta abbiamo parlato della filastrocca. La filastrocca è una forma di poesia, un testo poetico e abbiamo analizzato le sue caratteristiche. Oggi vi parlerò in modo approfondito della poesia. Che cos'è la poesia, quando è nata, chi la scrive, come è fatta, cioè le sue caratteristiche e il linguaggio che utilizza. Partiamo! Che cos'è la poesia? La poesia è un testo scritto che esprime sentimenti, emozioni, pensieri, desideri. Il testo poetico è una forma di comunicazione diversa da tutti gli altri testi che abbiamo studiato durante questo anno scolastico. Perché? perché ci presenta un modo diverso di fantasticare, immaginare e di guardare la realtà. La poesia si recita con un ritmo. Il ritmo della poesia è una caratteristica che la rende come orecchiabile e piacevole, sia da recitare che da ascoltare. Ad esempio, avevamo visto la scorsa settimana che la filastrocca ha un ritmo vivace, come se fosse una canzonetta. Nella poesia le parole non possono essere cambiate o spostate, no, 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 no. Altrimenti il ritmo non si sente più. Quando è nata la poesia? Ancora prima di scrivere, l'uomo utilizza la poesia per raccontare. La poesia è nata prima della scrittura. Anzi, le prime poesie erano orali, come quelle dei cantastorie. Chi erano i cantastorie? Erano artisti di strada che si spostavano nelle piazze e raccontavano attraverso il canto? Una storia. Da lì deriva la parola cantastorie. Parola composta, canta, cantare, storie. Anche le preghiere a loro modo sono una forma di poesia. Infatti si imparano a memoria e poi si recitano. Chi scrive la poesia? Il poeta. Utilizza parole a suo piacere con molta libertà. Si potrebbe paragonare il poeta ad un pittore. Perché? Perché il poeta attraverso le parole costruisce il suo testo. Il pittore attraverso i colori dipinge il suo quadro. Nella poesia le parole sono evocative. Cosa significa evocative? Consentono al lettore di immaginare ciò che il poeta descrive. Come è fatta una poesia? La poesia, come la filastrocca d'altronde, è scritta in versi. Questo l'abbiamo già visto. Cosa sono i versi? I versi sono le righe della poesia e possono essere raggruppati in strofe. Quindi le strofe sono le parti di cui è composta la poesia. Avete notato che tra una strofa e l'altra c'è uno spazio vuoto. Ma non tutte le poesie sono suddivise in strofe. Talvolta hanno una sola strofa, soprattutto quelle brevi. Quando i versi terminano con gli stessi suoni fanno rima. Per fare la rima cosa fa il poeta? Cerca delle parole che finiscano con lo stesso suono e poi le mette in fondo ai versi, così da rendere musicale il testo poetico. Ad esempio, rosa con cosa, corallo con giallo, bella con scodella. Le poesie possono avere rime di diverso tipo perché ci sono tanti modi per costruirle. Il poeta poi sceglie quale rima utilizzare. Quando un verso fa rima con quello che segue abbiamo visto che abbiamo in questo caso una rima baciata. Ma non tutte le poesie sono in rima. In questo caso sono in versi sciolti. Cioè se leggete una poesia non in rima, si tratterà di una poesia in versi sciolti. Analizziamo il linguaggio nella poesia. Il linguaggio della poesia è figurato. Cosa significa figurato? Ricco di immagini. Quali sono queste immagini? Oggi ne vediamo tre. La personificazione, la similitudine e la metafora. Partiamo dalla personificazione. La personificazione consente al poeta di parlare degli elementi della natura come se fossero esseri umani. Ecco perché personificazione deriva da persona. Attraverso la personificazione il poeta attribuisce qualità, caratteristiche, sentimenti, comportamenti umani a chi? Ad animali, ad oggetti, a concetti astratti. Quali sono i concetti astratti? La giustizia, la fortuna, la pace? Dicchiarisco la personificazione attraverso questi esempi. Se io volessi dire in quell'occasione sono stato fortunato, per rendere poetica questa frase potrei dire in quell'istante la fortuna bussò alla mia porta. Nella realtà la fortuna non bussò alla porta. Oppure se volessi dire in quell'istante il sole era coperto, cioè era oscurato da una grossa nuvola bianca. Per rendere poetica questa frase potrei dire il sole si nasconde dietro una grossa nuvola bianca, ma nella realtà non è che il sole si nasconda dietro le nuvole. Passiamo alla similitudine. La similitudine mette a confronto due concetti. Come lo fa? Attraverso delle parole. E quali sono queste parole? Come, sembra, è similea, pare. Attraverso queste parole il poeta può esprimere un paragone. Spesso quando descriviamo una cosa facciamo il confronto con un'altra che abbia caratteristiche simili. Ecco perché similitudine. Simili. I due elementi, che possono essere due persone, due animali, due cose, risultano per l'appunto simili perché hanno qualcosa in comune. Vediamo degli esempi. Infine vediamo la metafora. La metafora consiste nel sostituire una parola con un'altra. Perché? Perché questo va a rafforzare il concetto. Esempio. Se io volessi dire che a calcio Luca è forte ed imbattibile, potrei dire in modo poetico a calcio Luca è un leone. Oppure, e non significa che Luca si sia trasformato nel re della foresta, ma che sia forte come un leone. Oppure, se volessi dire che i capelli di Monica sono biondi, per dirlo in modo poetico, scriverei i capelli di Monica sono d'oro. Non significa che i capelli di Monica siano veramente d'oro, ma che il loro colore ricordi il giallo intenso e lucente di questo metallo. Siete d'accordo? Vediamo la differenza tra la similitudine e la metafora. Andiamo ancora più a chiarire la differenza tra queste due immagini. La metafora si differenzia dalla similitudine per l'assenza di parole o espressioni quali? Veloce come, furbo come, che esprimono per l'appunto un paragone. Quindi la metafora non è esplicita, cioè non dice in maniera evidente, chiara, la caratteristica comune. Dunque, si può dire che il paragone sia sottinteso. Andiamo agli esempi. Marco è veloce come il fulmine. Veloce come ci fa capire che siamo in presenza di una similitudine. Ma se dico Marco è un fulmine, è una metafora. I capelli di Monica sono lucenti come loro. Lucenti come? Similitudine. Ma se dico i capelli di Monica sono d'oro, quella è solo una metafora. Un altro esempio. Tu sei furbo come una volpe. Furbo come? Ci fa capire che siamo in presenza di una similitudine. Ma se dico solo tu sei una volpe, siamo in presenza di una metafora. Vorrei per concludere leggervi una poesia molto carina di Rodari, di Gianni Rodari. Ve lo ricordate il nostro poeta che fa riflettere su una tematica molto attuale che è l'inquinamento, l'inquinamento ambientale. Quindi le conseguenze che le nostre azioni hanno sull'ambiente. Prima ve la leggo e poi ve la spiego brevemente. Un contadino, un poco ignorante, spruzzò il veleno sopra le piante. Dodici grilli, la cosa è accertata. Fecero merenda con l'insalata. Chi ci rimette le penne è un biancone che con le serpi ci fa colazione. Questa storiella vi spiega perché di falchi in cielo ormai più non ce n'è. Cosa ci dice il nostro amico poeta Rodari? Che un contadino che non sapeva come curare le sue piante spruzzò il veleno invece del fertilizzante. Il fertilizzante serve a nutrire le piante. Dodici grilli mangiarono queste piante di insalata piene di veleno. Questo fatto è sicuro. Nel testo ci dice la cosa è accertata. Dopodiché sei topolini mangiarono i grilli. Che a loro volta avevano mangiato l'insalata avvelenata. E così i topolini mangiarono anche tutto il veleno che i grilli avevano in corpo. Poi tre serpenti mangiarono i topolini avvelenati. Quindi anche i serpenti ora sono pieni di veleno. Purtroppo chi ci rimette la vita perché muore è un biancone che mangia i serpenti. Il biancone è un uccello con la testa bianca e simile ad un falco. Quindi la conclusione di questa poesia è che questa storia spiega perché in cielo ci siano pochi falchi. I falchi sono uccelli simili ai bianconi. Essi vivono poco perché mangiano i serpenti avvelenati. Quindi la morale, il messaggio che ci vuole trasmettere il poeta è che proprio i veleni per le piante danneggino la natura. E quindi siamo responsabili delle nostre azioni. Ci sono delle conseguenze. Dobbiamo stare molto attenti. Quindi spero che vi sia piaciuta e spero altrettanto che l'argomento spiegato in questa puntata vi sia chiaro. Vi aspetto al prossimo appuntamento con la poesia. E nel frattempo vi abbraccio come sempre. Ma forte, 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 forte. Ciao bimbi, state bene. Un bacio. Ciao.